Già convitto di villeggiatura del convito nazionale di Chieti, grazie alla riforma gentile, il 1 ottobre del 1923 il comune di Pescara decide di trasformarlo in un istituto tecnico per ragionieri e geometri ed intitolarlo alla memoria di Tito Acerbo, nobile di Loreto Aprutino, morto in battaglia nel giugno del 1918 nella Grande Guerra. Nasce così il prestigioso istituto tecnico Tito Acerbo, come da molti ricordato questa mattina in occasione della cerimonia d'apertura dell'anno del centenario, ancora prima della nascita stessa della città di Pescara. Tantissime le iniziative da qui fino al termine della stagione scolastica, tra queste la probabile visita a Pescara del ministro Valditara e della visita certa del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Ovisco, alunno del celebre economista Federico Cavalli, Caffè, scomparso misteriosamente nel 1987 e che fu docente di questo istituto prima di affrontare una brillante carriera di economista e professore universitario. Nel futuro da un secolo recita il claim scelto per le celebrazioni del centenario e per il quale Poste Italiane ha pensato anche a uno specifico annullo filatelico. E mai Motto fu più azzeccato per una scuola antica ma che guarda da sempre la formazione innovativa e di alta qualità, come ricorda il dirigente scolastico Carlo Di Michele. Vorremmo cioè coinvolgere tutta la comunità scolastica in questo evento ma non solo la comunità scolastica, anche la città perché questa scuola ha rappresentato un punto di riferimento per i tanti studenti che l'hanno frequentata ma ha dato in questi anni, in questo secolo, un grande contributo allo sviluppo della città e del nostro territorio. Quindi una scuola perfettamente dentro la città e vorremmo che questa fosse l'occasione per far conoscere ancora di più la ricchezza dell'offerta formativa del nostro istituto. C'è una parte di ricostruzione storica, anche questa mattina ripercorreremo la vita di Tito Acerbo, la storia di questo istituto, di questo edificio. E allo stesso tempo noi vogliamo cogliere l'occasione per riflettere su che cosa è oggi il rapporto tra scuola, istruzione tecnica e formazione dei ragazzi. Vorremmo parlare di educazione dei giovani. Abbiamo in programma diversi incontri per i genitori, con i genitori, su tematiche di grande attualità e poi abbiamo degli importanti appuntamenti con i ragazzi. Un concorso, una borsa di studio che consentirà l'espressione della creatività dei ragazzi, la giornata dello sport e tanti altri appuntamenti. Quindi un'iniziativa non tanto per ma con, insieme.